Una buona giornata e bentrovati a questa prima edizione del telegiornale di TV6. In primo piano la ricostruzione e il sisma del centro Italia monta ad oltre 27 milioni di euro il danno stimato che è stato provocato dal terremoto del 2016 e poi da quello del 2017 di cui oggi ricorre l'anniversario. La struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini ha diffuso i dati aggiornati della ricostruzione. Quella privata risente delle difficoltà del settore edile oltre al fatto che i materiali da costruzione sono aumentati a causa del bonus 110%. Accelera invece la ricostruzione pubblica. Facciamo il punto nel servizio. Le difficoltà del mercato dell'edilizia, la scarsità di imprese e di mano d'opera e l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione indotti anche dal super bonus 110% incidono sull'andamento della ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del centro Italia che registra nel terzo trimestre 2021 una crescita più contenuta delle domande di contributo per gli immobili danneggiati e delle richieste approvate. La struttura commissariale del sisma 2016-2017 nel giorno del quinto anniversario del terremoto che ha colpito Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche ha diffuso i dati relativi alla ricostruzione. Tra giugno e settembre sono state presentate agli uffici speciali delle regioni 438 richieste di contributo di ricostruzione a fronte delle 528 del trimestre precedente. Nel trimestre luglio-settembre sono stati emessi 765 decreti di contributo a fronte dei 1.407 del trimestre aprile-giugno e dei 1.910 del primo trimestre dell'anno. Nonostante la minor crescita nel terzo trimestre, i dati del 2021 però confermano e consolidano il deciso cambio di passo della ricostruzione avvenuto negli ultimi mesi del 2020. Da gennaio a fine settembre sono state approvate oltre 4.000 richieste di contributo che hanno consentito l'apertura di altrettanti cantieri, oltre un terzo di quelli aperti dall'avvio della ricostruzione. In questo periodo i cantieri che hanno concluso i lavori sono stati 1.691. Al 30 di settembre scorso si registravano 5.385 cantieri ultimati rispetto agli 11.000 autorizzati ed aperti. Nel 2021 si registrano avanzamenti importanti anche nella ricostruzione pubblica. Nel terzo trimestre dell'anno in particolare sono state erogate le prime somme pari a 67 milioni di euro per il finanziamento delle opere pubbliche previste nelle nuove ordinanze speciali. Le erogazioni effettive a valere sulla contabilità speciale del commissario erano pari a fine settembre a 468 milioni di euro a fronte dei 265 milioni di fine 2020. Considerando tutte le opere pubbliche, a fine settembre risultavano conclusi e in fase di collaudo 351 interventi a fronte dei 253 del 2020. Si tratta in particolare di 153 opere pubbliche in senso stretto, 100 chiese ed edifici di culto, 81 interventi realizzati dagli SMS solidali e 17 delle 20 scuole inserite nel progetto speciale. Secondo il commissario straordinario Giovanni Legnini ammonta oltre 27 miliardi di euro il danno stimato per la ricostruzione del centro Italia terremotato. Per la ricostruzione privata, ha spiegato Legnini, occorreranno oltre 20 miliardi, per la pubblica 5 miliardi e 100 milioni e un altro miliardo e mezzo servirà per recuperare le 3.000 chiese danneggiate. Adesso, ha aggiunto il commissario, l'obiettivo è completare il censimento dei danni entro il 31 di dicembre 2021. In particolare per il patrimonio edilizio privato sono pervenute circa 58 mila domande di prenotazione al contributo a fronte di circa 80 mila edifici danneggiati, con un delta di 22 mila edifici che si conta di recuperare, almeno in minima parte, stimolando, ha concluso Legnini, una nuova presentazione delle domande in modo da arrivare ad oltre 60 mila edifici da recuperare. A Pescara i lavori su Viale Marconi spaccano la maggioranza di centrodestra. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Rapposelli, chiede che venga ritirata la delega al commercio all'assessore cremonese, suo compagno di partito. Sentiamo Giuseppe Dintino. Si consuma a lungo Viale Marconi la lotta a Fratricida in seno alla giunta comunale di Pescara. Ieri c'è stata una riunione a cui hanno partecipato anche gli esercenti, oltre al sindaco, gli assessori competenti e al presidente del Consiglio Comunale. Il consigliere Fabrizio Rapposelli chiede che il primo cittadino ritiri la delega al commercio all'assessore cremonese. L'assessore al commercio attuale non ha preso mai posizione per quanto riguarda questa opera, non ha mai detto nulla su questa opera e non ha mai voluto, diciamo, farsi portavoce delle istanze, dei commercianti che ieri hanno protestato e hanno soprattutto detto la loro in maniera anche molto chiara. Quindi ritengo che qualora un membro della giunta con una determinata delega non difenda, non sia paladino degli interessi o comunque delle istanze di quel ramo della delega, è bene che la rimetta la delega in questo caso. Nella maggioranza di centrodestra la crisi è diventata ufficiale, tuonano le opposizioni. Rapposelli infatti in Consiglio è capogruppo di Fratelli d'Italia, stesso partito di cui è espressione l'assessore cremonese. Se ci sta anche qualcuno del nostro schieramento che non ha, diciamo, sotto questo punto di vista, rispettato anche le aspettative dei cittadini, è bene che faccia altro. Lui fa l'assessore a altre delega, al turismo, grandi eventi, credo che lo stia facendo anche abbastanza bene. Per quanto riguarda questa questione, è una questione insomma molto ma molto importante. Il silenzio è stato abbastanza assordante. Dopo mesi di lavoro e aver cambiato idea diverse volte, con la segnaletica stradale l'amministrazione comunale ha terminato gli interventi lungo il viale. Si attende ora che gli autobus inizino ad attraversare le rotonde, così da verificare l'efficienza della viabilità. L'opera diciamo che è conclusa. Noi riteniamo, o perlomeno io da presidente della commissione commercio e attività produttive, che questa è un'opera che è potenzialmente molto dannosa per il commercio cittadino e quindi dal ruolo che rivesto in comune, quindi presidente della commissione commercio e attività produttive, non posso che preoccuparmi delle attività e dei commercianti di zona, di Viale Marconi, che hanno espresso più riprese, grandi riserve su questo tipo di opera e soprattutto sull'ipotetico danno ferale per le proprie attività commerciali. E adesso andiamo ad ascoltare proprio gli esercenti pescaresi di Viale Marconi, esasperati per i continui lavori. La segnaletica crea confusione e può essere pericolosa, hanno spiegato, ma il problema principale è quello della riduzione dei parcheggi. Viale Marconi, importante arteria di Pescara, cambia faccia. Nuove rotonde, due corsie dedicate agli autobus e via gran parte dei parcheggi. I pescaresi meritano strade come quelle di Parigi e non come quelle di Bagdad, ha detto soddisfatto sui social il sindaco Carlo Masci. Ma gli esercenti che lavorano lungo Viale Marconi cosa ne pensano? Questi lavori sono sbagliatissimi da parte mia, noi siamo un'attività da 40 anni e questi lavori che stanno facendo qua, la carreggiata a quattro corsie, due per gli autobus e due per le macchine, per me e per tutti i negozianti di via Marconi è una cosa negativa. Noi stiamo tutti i giorni qua, a parte che io non capisco nulla, una corsia autobus affiancata al marciapiede, l'altra invece a metà, noi siamo preoccupati. A parte questo non abbiamo nemmeno un piccolo parcheggio per noi, né per noi per un attimo fermarsi perché comunque svolgiamo un servizio importante, la gente che lavora non può fermarsi un attimo, ma non solo noi, la farmacia. Come fa un anziano a parcheggiare, non lo so, sotto il ponte o che è alla stazione, dove? Non ci sono parcheggi. I parcheggi perché qua non si potrà scaricare, non è previsto solo qualche parcheggio dall'altro lato, ma è per i disabili, non è solo per noi, i disabili, chi ci abita, il carico è scarico, qui c'è le attività commerciali, se mi arriva il camion per scaricare io non lo posso far scaricare qua. La gente che si deve fermare un attimo per una sosta, un negoziante, qualunque attività va via. Ti dico la mia, non ci stiamo capendo più niente, non per parlare bene, non per parlare male. Ci svegliamo la mattina c'è una rotatoria, ci svegliamo la seconda mattina non c'è più e non entro nel merito dei lavori perché non sono né un tecnico né sono pratico dei lavori. L'unico problema che stiamo riscontrando tutti noi commercianti, credo che sia chiaro, è quello dei parcheggi, quella della mancanza dei parcheggi, della cancellazione dei parcheggi. Mi auguro che questa soluzione che hanno trovato non sia deleteria anche per l'incolumità delle biciclette, dei pedoni stessi. La risposta, c'è stata una riunione, il sindaco ci rideva in faccia e questo mi ha fatto veramente male. Questa notte non ho dormito perché essere così trattati da una persona che fa politica, che dovrebbe fare il bene comune non è accettabile. Noi stiamo qua, paghiamo le tasse, stiamo qua, ci allaghiamo. Non lo so, noi siamo preoccupati, non sappiamo nemmeno come è ancora chiusa, ma quando si apre non sappiamo nemmeno come sarà il traffico. Attendiamo che vada in porto, come dice il sindaco, la nuova Parigi col mare di Pescara e tendiamo fiduciosi, anche se di fiducioso credo non ci sia nulla. Adesso andiamo a Lanciano dove il sindaco Filippo Paolini ha varato la giunta. maggioranza degli assessori femminile per il Paolini Ter che vede la squadra di governo con quattro donne e tre uomini. Il vice sindaco è Danilo Ranieri, cui è stato affidato il bilancio, poi la cultura, lo sport e il turismo. Mobilità e traffico invece sono le deleghe affidate a Paolo Bomba, mentre Tonia Paolucci gestirà la transizione ecologica, il PNRR, la sicurezza e le contrade a Graziella di Campli. Paolini ha affidato l'urbanistica, il patrimonio e le politiche della casa, mentre ad Angelo Palmieri sono andate le deleghe all'istruzione, alle risorse umane e agli affari generali. Commercio, agricoltura e tutela degli animali sono le competenze di Maria Ida Troilo, mentre a Cinzia Moroso si occuperà delle politiche sociali. E adesso torniamo alla visita di ieri dell'amministratore delegato di ANAS Massimo Simonini, che ha preso parte anche ad un incontro a Loreto Aprutino per l'elaborazione del progetto della Loreto Penne con destinazione Farindola. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Stiamo cercando di capire nel dettaglio alcuni passaggi che cercheremo nel possibile ovviamente di Sanare. Sono le parole dell'amministratore delegato di ANAS SPA Massimo Simonini, arrivato ieri in Abruzzo per prendere visione della viabilità Scafa Manopello Passo Lanciano a Pescara per l'eventuale realizzazione di uno svingolo chiamato Colle Caprino all'attezza dello stesso che permetterebbe di utilizzare la circonvallazione Montesilvano-Pescara come un semiraccordo anulare. Nel pomeriggio poi a Loreto Aprutino per l'elaborazione progettuale della viabilità Loreto Penne anche con destinazione verso Farindola. È una strada complicata, ha avuto tante vicissitudini, stiamo cercando di rivedere e rivalutare la possibilità di realizzare quest'opera, ha delle criticità in dubbio ma ci stiamo lavorando su. Per quanto riguarda la Maremonti i due terzi delle risorse sono presenti anche nelle economie provenienti dal passato. La parte restante, come precisato anche dall'ingegner Simonini, non è difficile da recuperare all'interno di una rigorosa progettazione di qualità. Quello è che è certo che gli enti locali devono individuare il tracciamento migliore e non metterlo in discussione. Ci aspettiamo che questa progettualità volga a brevissimo tempo in opera e quindi possa dare delle risposte concrete all'area vestina e con essa anche all'area industriale che sarà necessaria per ridare vitalità alla nostra area, oltre che chiaramente tutta la parte turistica. Quindi ringraziamo il senatore D'Alfonso per il suo continuo impegno e l'amministratore delegato dell'ANAS che sta mostrando un interesse particolare. Speriamo che un sogno prima o poi diventa realtà. Con l'ANAS abbiamo posto in essere alcuni principi in base ai quali poter finalmente sbloccare un'opera pubblica importante, cioè un collegamento veloce tra Penne e la costa. Penne è il baricentro e tutta l'area vestina, quindi dei centri limitrofi e dobbiamo far sì che, grazie anche ai fondi del PNRR, individuare risorse aggiuntive per realizzare l'infrastruttura che attendiamo da circa 40 anni. Per quanto riguarda le chiusure della rete idrica, slitta di tre ore a Chieti l'orario di chiusura dell'acqua per oggi e domani. L'ACA ha infatti accolto l'invito dell'amministrazione comunale a fare sinergia istituzionale in vista del fine settimana di eventi e festività in occasione del Ponte di Tutti Santi. Dunque slitta a luna di notte la chiusura della rete idrica. Noi proseguiamo, torniamo a Pescara. Continua a far discutere il Fosso Grande, l'affluente del fiume Pescara a rischio esondazione. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari ha presentato un'interpellanza rivolta al governatore della regione Marsilio. Sentiamo. Non basta la saltuaria manutenzione del Fosso Grande, affluente del Pescara che nasce a Montesilvano e attraversa Spoltore, il capoluogo adriatico. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che ha presentato un'interpellanza al governatore Marsilio. Generalmente la portata del canale è di 10 o 15 metri cubi al secondo, ma nel dicembre del 2013, quando un'esondazione provocò danni per circa un milione di euro, scorrevano 150 metri cubi di acqua al secondo. Situazione questa che si è ripetuta anche nel luglio del 2019. Oggi nulla è stato fatto di questa grande, possiamo dire, infrastruttura importante per regimare le acque. Hanno fatto delle opere che io chiamo pagliativi, di sostruzione del canale e quant'altro che non hanno risolto il problema, hanno solo peggiorato il problema. Perché i soldi sarebbero già stanziati? Sì, sì, ci sono soldi, sono soldi 800 mila euro, poi c'è stata una piccola decurtazione, certo servirebbero più fondi, ma già con questo iniziamo a fare delle opere importanti. Perché ancora non hanno utilizzato questi soldi che sono a disposizione? Perché gli ingranaggi burocratici, possiamo dire, che stanno un attimino ritardando le varie amministrazioni coinvolte, Regione Abruzzo e poi a mio avviso non c'è stato mai questo interesse per risolvere davvero il problema. Hanno cercato di fare, di mettere in campo dei pagliativi, questo è il problema. Il Comitato Cittadino formatosi per affrontare il problema del Fosso Grande chiede che si utilizzi lo spazio di proprietà del Comune di Spoltore lungo la sponda del canale. Lì dovrebbe nascere un parco pubblico, un impianto sportivo, dicono dal Comitato, ma sarebbe meglio realizzarci una vasca di espansione. Modificarlo sostanzialmente nel senso di costituire nella zona del parco pubblico un lago, un lago attrezzato come quello della pineta di Pescara, che però nell'emergenza, quando c'è l'emergenza meteo, si chiude come accesso al pubblico e diventa la vasca di espansione a valle, tra l'altro insiste sulla zona storica di espansione del Fosso che è la zona della motorizzazione, attualmente cementata. Dopodiché occorre però lavorare a monte con dei salti idraulici perché il problema è quello di trattenere l'acqua prima che arrivi nell'abitato, nel centro abitato e di sostruire il canale terminale scatolato, quindi con la mancata manutenzione che tra l'altro ha determinato in qualche modo l'inutilizzabilità del canale stesso, perché sotto ci sono i detriti di due alluvioni, quantomeno per quelli che sappiamo noi negli ultimi dieci anni. Siamo arrivati alla pagina dello sport, Serie C in primo piano con il Pescara, Auteri recupera in difesa Drudi e Ingrosso, ma con ogni probabilità solo uno dei due sarà in campo dal primo minuto contro l'Olbia. Una ulteriore possibilità potrebbe essere data dal giovane Veroli che ha esordito bene sabato scorso a Siena, mentre Ianes torna dopo il turno di stop che gli era stato inflitto dal giudice sportivo Guarito Dursi, sarà a disposizione dell'allenatore, mentre a centrocampo saranno della partita Pompetti e Memusha e Rizzo ai suoi lati. Davanti spazio a Ferrari e De Marchi, mentre il vero dubbio in casa Biancazzurra è il sistema di gioco, potrebbe essere il 3-5-2 o il 4-3-3, il tecnico deciderà solo a ridosso della gara contro l'Olbia a cui mancherà per squalifica e le centravanti Udo espulso nell'ultima gara di campionato persa in casa contro il Modena per 3-0 tra i Sardi. 21 i convocati, mentre oltre a Udo assenti anche Pinna e Arboleda. Potrebbe giocare dal primo minuto uno degli ex, l'attaccante Mancini. Il tecnico ospite Max Canzi ha fotografato la gara di domani dicendo veniamo da un KO che con tutte le sconfitte, come tutte le sconfitte va gestito nella direzione che permette di trasformare la delusione in voglia di dimostrare l'inciampo di cui io sono stato il primo responsabile, ha detto il tecnico. Il Pescara è una squadra che sta cercando un proprio equilibrio, ha continuato ma è certamente molto più consapevole della categoria in cui si sta misurando di quanto non lo fosse due mesi fa. Ed ora passiamo al Teramo, domani trasferta a Pontedera che affronta l'Aquila Montevarchi in una settimana contrassegnata dalla firma del preliminare di vendita da parte del presidente Iachini delle quote di maggioranza del club. Guidi recupera Rosso e Berrigea ma non Arrigoni che in ogni caso partirà con la squadra. In mezzo ci sarà Lombardo con Mungo e Viero interni, dietro dubbio Bois a Ziosmanovic con il secondo favorito. Davanti si ricompone il tridente con Malotti Bernardotto e appunto Rosso. Il tecnico biancorosso Guidi ha fatto il punto della situazione in campo e fuori in conferenza stampa. E' stata una settimana come tutte le altre, nel senso che la nostra testa, la nostra concentrazione non poteva che farci pensare al campo anche perché veniamo da una partita in cui è vero eravamo in gravissima emergenza ma è vero anche che i gol ce li siamo fatti anche un po' da soli e quindi su quelli dovevamo migliorare. I nostri sforzi erano più orientati al miglioramento della squadra piuttosto che alle note vicende che ormai conoscete tutti. È venuto a parlare il presidente Iachini perché era giusto che fosse così, ha tranquillizzato tutti quanti noi e tutto il gruppo a squadra una volta che era stato firmato il preliminare e poi ieri abbiamo conosciuto il nuovo presidente, la nuova proprietà, i nuovi direttori e ci siamo fatti diciamo il primo approccio. Però detto questo poi la mia professione, le mie responsabilità sono quelle del campo e non potevo io insieme al mio staff e ai calciatori stare orientato a quello che succedeva fuori. Non sono cose che appartengono a noi, non sono cose di nostra competenza e responsabilità. Noi abbiamo l'obbligo di pensare al campo se no rischeremo di sbagliare in quello che è la nostra professione. È una partita estremamente difficile, conosco molto bene l'allenatore, conosco molto bene l'ambiente del Montevarchi, conosco molto bene tantissimi calciatori che hanno a disposizione e so che domani se dovessimo sbagliare l'atteggiamento è una partita dove rischieremo di fare una brutta figura. Noi dobbiamo portare dentro il campo intanto tutti gli errori che abbiamo commesso con il Cesena perché dobbiamo dimostrare in primis a noi stessi che è stato un passaggio a vuoto degli errori che ci possono stare viste le tante difficoltà che avevamo, ma dobbiamo anche far capire a tutti che gli errori sono stati metabolizzati. Quindi intanto non dobbiamo commettere l'errore di sbagliare l'atteggiamento. Troviamo una squadra che è iperaggressiva, una squadra che sa stare nei duelli, una squadra che ha giocatori interessantissimi per uno contro uno, per attacco agli spazi, per fisicità, possono essere estremamente pericolosi sulle palle inattive. Non dimentichiamo mai che magari ora le ultime partite sono venute fuori dei risultati negativi, però è vero anche che io ho visto tutte le partite e è vero anche che sono risultati che potevano essere anche diversi perché hanno avuto sempre occasioni per fare gol. È rientrato Birlicea, è rientrato rosso. Rossetti ha svolto tutta la settimana con la squadra, è ancora da valutare a Rigoni, oggi ha svolto allenamento differenziato, non accusa Dolori, però bisogna andarci con la dovuta cautela perché è chiaro che non possiamo rischiare di perdere il capitano, perché è per noi pedina importante e partirà col gruppo, ma non è detto che poi scenderà in campo, questo dipenderà dalle sue sensazioni, dall'ultimo giorno, anche perché dobbiamo tenere in considerazione il fatto che giocheremo tre partite in una settimana, perché mercoledì avremo la partita di Coppa Italia, quindi visto che siamo verso la risoluzione di tanti problemi che abbiamo avuto nell'ultima settimana, non voglio assolutamente avere nessun tipo di recidiva. Adesso la Serie D sarà a Fiuggi, la gara clou della settima giornata. I padroni di casa primi in classifica ospitano il Pineto, a Vasto invece arriva il Chieti per un derby vietato alla tifoseria di casa. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Al netto dell'anticipo odierno del Castelnuovo, il match clou della settima di andata in Serie D, Girone F, sarà al capo Iprati di Fiuggi, dove la capolista di Romondini ospita il Pineto, diretta inseguitrice della prima in classifica. Striscia aperta di cinque successi consecutivi per i padroni di casa, che dopo lo stop iniziale col notaresco all'esordio, non hanno più sbagliato un colpo. Chieti, San Benedettese, Montegiorgio, Tolentino e Aurora, Alto, Casertano, senza mai uno stop. Più o meno lo stesso percorso del Pineto, sconfitta all'esordio col Castelnuovo e poi una sequenza di successi, interrotta soltanto dal pareggio Beffardo e con non poche polemiche di due settimane fa a Recanati. Una partita difficile, ma come tutti del resto, perché normalmente mi affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene, una squadra che merita da mente al primo posto. Una bella partita e sono convinto che l'abbiamo preparata questa settimana e l'abbiamo preparata bene. Sappiamo che andiamo a affrontare una squadra forte con giocatori importanti, però sono convinto delle potenzialità della mia squadra e spero di vedere una bella partita. È normale la classica partita di cartello e spero di vedere un grande Pineto perché ultimamente stiamo facendo delle buone prestazioni e spero di vedere quello che ho visto la settimana scorsa. E cosa vuoi vedere soprattutto? Voglio vedere l'atteggiamento giusto, una squadra cattiva, una squadra vogliosa, una squadra vogliosa di portare a casa il risultato con la consapevolezza di giocare contro una squadra forte. Io dico sempre che dobbiamo sempre rispettare l'avversario però non dobbiamo avere mai paura. Altra gara da non perdere assolutamente è quella dell'Aragona di Vasto dove si recherà il Chieti che all'Angelini va così così, ma in trasferta rende certamente meglio. Dalla parte opposta gli aragonesi possono rispondere con l'entusiasmo del primo squillo in campionato sul campo nel notaresco. La formazione di Fulvio D'Adderio potrebbe vedere qualche cambiamento davanti dove sembra destinato all'addio Martigniello e la società Biancorossa si sta muovendo per dare al tecnico una prima punta in grado di fornire un buon bottino di reti. Gara vietata al pubblico nero-verde su disposizione della prefettura che ha inserito Vastese e Chieti tra le gare a rischio sulla base delle determinazioni del comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Quello che è importante poi alla fine credo è fare una buona partita, che i ragazzi insomma vadano preparati e diano il meglio di loro, quindi proveremo a fare la prestazione. L'ultima battuta, l'obiettivo rimane sempre quello di? L'obiettivo è quello di fare un buon campionato sostanzialmente. Poi la Serie D è un campionato dove è a due facce, perché la prima parte del campionato e la seconda spesso assumono caratteristiche diverse e vedremo dove saremo a dicembre. Partita particolare per Massimo Epifani a Fano. Il notaresco va al Mancini per cancellare un momento non proprio indimenticabile e provare a risalire la china in classifica. I granata marchigiani sono un osso duro, è vero? Ma i rosso-blu non hanno molte alternative ai tre punti. Pena, l'abbandono troppo repentino a belleità di primo posto. Qua da che innanzitutto è una squadra retrocessa dalla Serie C, è una squadra blasonata e quindi hanno costruito una squadra secondo me importante, con giocatori importanti e quindi ci aspetterà una partita molto difficile perché incontriamo una squadra che è partita come noi per fare un campionato di vertice. Quindi sarà sicuramente una partita da prepararla molto molto bene e dobbiamo fare una grande gara dopo la prestazione negativa di domenica scorsa. Una gara nella quale non solo mister Epifani, ma comunque il mister sarà l'ex del confronto tra scorsi importanti a Fano. Sì, mi fa piacere tornare lì perché sono stato bene, mi è dispiaciuto solo per come è andata la fine, però adesso sono allenatore del notaresco, sono concentrato su quello che dobbiamo fare, sulle cose da migliorare. Questa settimana abbiamo parlato molto con i ragazzi e siamo pronti per ripartire cercando di fare subito una grande gara. Infine il Nereto che col Monte Giorgio cerca la prima vittoria. Non che i marchigiani se la passino molto meglio, ma il successo col Porto d'Ascoli di una settimana fa ha dato ossigeno alle speranze dell'undici di Eddi Mengo. Dalla parte vibratiana Leonardo Bitetto ha bisogno di tempo, ma non troppo perché la stagione corre veloce e il penultimo posto in classifica è troppo scomodo seppur per una squadra la prima esperienza in Serie D. Gare che con il cambio di orario previsto nella notte inizieranno tutte alle ore 14.30. Il TG6 termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Se volete un demanda trovate i nostri servizi su YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Il prossimo appuntamento con il TG6 è alle ore 19. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.